Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo elixir di psicosomatica. Oggi parliamo dei piedi. I piedi sono le radici del corpo. Ci permettono di stare ben piantati a terra e legati al nostro ambiente, ma anche di muovere e andare altrove. I problemi ai piedi indicano difficoltà o incertezze nell'andare avanti. Il simbolo più immediato dei piedi è quello di radici. Le radici dell'albero che siamo in contatto con la madre terra. Ecco quindi alcuni significati simbolici che vengono comunemente attribuiti ai piedi. Il senso dell'essere con i piedi per terra, cioè il legame concreto con la realtà, contrapposto all'avere invece la testa tra le nuvole. Il senso di essere ben piantati, cioè di avere una buona base d'appoggio fisica e psichica, quindi stabilità è una valida autostima. Il senso delle proprie radici, intese sia come storia personale che come albero genealogico, le origini e come tradizione da cui si deriva. Il senso del radicamento, cioè del legame che è il luogo in cui si vive, ma anche con lo stile di vita tipico del proprio luogo di appartenenza. Il contatto con la terra, intesa in questo caso come profondità dell'inconscio. La fermezza di restare solidi e in piedi di fronte agli eventi della vita, alla tenacia e alla determinazione. Una simbologia molto variegata che si arricchisce ancora di più quando, oltre alla funzione statica dei piedi, si prende in considerazione anche quella dinamica. Il piede infatti, in quanto ultima e decisiva parte dell'arto inferiore, esprime anche tutto ciò che è legato al concetto di cammino, nelle sue varie valenze. Lo sviluppo psicologico, l'andare avanti, il seguire un percorso sensato, la possibilità di cambiare strada, di accelerare, di indietreggiare, di puntare i piedi, di sollevarsi, andare sulle punte, per vedere oltre. In sintesi, esso simboleggia il modo di avanzare nella vita, la fluidità della vita che stiamo percorrendo. Dimmi come cammini e ti dirò chi sei. Studi recenti dimostrano associazioni sorprendenti tra l'atteggiamento mentale e del modo di appoggiare i piedi per terra e hanno evidenziato tre simbologie differenti, corrispondenti alle diverse parti del piede. Il tallone è il punto di appoggio, le radici vere e proprie, per come le abbiamo viste in precedenza, porta con sé il carico del passato e vive il presente. La parte anteriore è l'appoggio in avanti, cioè il modo in cui si procede nella vita e si guarda al futuro. Che direzione si prende e come, camminando e correndo e saltando. La parte mediana, invece, è il punto dinamico del piede, il passaggio tra presente, passato e futuro, tra la sosta e l'azione, tra ciò che si è e ciò che si vuole diventare. Nella norma il baricentro deve cadere ovviamente al centro del tallone, che rappresenta l'essere nel presente. Ma il peso del corpo, come può anche distribuirsi, è a sufficienza nelle altre parti. Tale mappa è utile per cogliere il senso di un disturbo. Per esempio un'artrosi, cioè un irrigidimento, impedimento ha una sfumatura diversa, a seconda che sia alle dita o che sia al tallone. Nel primo caso segnala un blocco della libertà, nel secondo indica un tentativo di fissarsi sul presente. Una fascite plantare, dolore lungo la pianta del piede, indica che si sta correndo troppo e che c'è un conflitto fra ciò che si è e ciò che verso cui si tende. In senso generale è un problema al piede esprime. Uno, una difficoltà a stare in equilibrio nella vita che si conduce. Due, una conflittualità e un'incertezza nell'avanzare nella vita, con ridotta libertà di movimento e di scelta. Tre, una riduzione generale del proprio dinamismo per problemi legati alle radici del proprio essere. Spero che questo podcast vi sia stato di aiuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!